subito dai 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 bravo colpetto che è accompagnata via bravo pensa di farlo uguale appoggia sul davanti e buttalo di là giusto la mossa ma devi dargli bravo dagli assufficienza per arrivare a appoggiare davanti di là non aver paura non ti si cappotta rilassi fai un po di è quello che faccio io tutte e due le mani spingi no 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 a farlo perchè non è mai andato l'italiano dietro al chicco perchè poi vedi se non lo fai così cioè li devi ribaltare dal tanto sei stanco finisci che sei così manubri della macchina lo incastri dentro e vai manubri della macchina lo incastri dentro e vai io l'ho fatta da lì chiedi chiedi